concorrente che è Giada Federici Giada, Giada, vieni, vieni, Giada Ciao, lei viene da Sezze? Ah ecco, volevo precisare che a Sezze ci sono tanti cantanti bravi, devo dire veramente complimenti, è una città piena di cantanti e anche di gente veramente partecipe a questa manifestazione perché abbiamo venduto tanti biglietti a Sezze, quindi i diciamo i setini partecipano in tutto e per tutto anche nei ragazzi che sono veramente squisiti e bravissimi, devo dire veramente con delle belle voci allora Giada si presenta con un pezzo di Cristina Aguilera, giusto? È una canzone del 2006 ed è scritta proprio da lei, Cristina Aguilera con Hart, prego di Cristina Aguilera, giusto? è una canzone del 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti